Conosci bene il motivo. Il filo interdentale è importante come lo spazzolino. Quello che faremo ora è estrarre il dente storto di Eren e poi lo reimpianteremo come si fa con un albero. Madritto. Madritto. Sono Danger Eren e questa è estrazione di dente Lamborghini. Ti do una buona notizia, stai per fare una sciocchezza. È bene che tu lo sappia. Dai, sali a bordo, idiota. Sarà terribile. Te l'ha consigliato il tuo parrucchiero. Andate a pescine. Sei eccitato? Come stai? È una Lamborghini. Senti che urlo. Apri gli occhi. Ti hanno i giacchi aperti. Guarda che culo cattivo che ha. Sì! 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 Addio! Marca puttana! Vittoria! Sì! Vorrei poter dire che non è stato terribile. Già, già. Sei un uomo. Oh mio Dio! Hai ripreso la Lamborghini? È andato? Sì! Cazzo se fa male! Eccolo qui! Cazzo! Oh mio Dio! Sei stato bravo! Sento anch'io il dolore. Voglio vedere. Fammi vedere. Cosa si prova? Penso faccia male. Non è da morire, cazzo. Eh? Come è stato? Non lo so. Cucca! Stai piangendo! Dove devi togliere il mio dente. Te l'abbiamo già tolto. Non te lo dobbiamo togliere. Il dente è ufficialmente tolto. Aaron, ricordi la storia che ti avremmo riempiantato il dente? Non era una storia vera.